Resta alta la tensione tra Donald Trump e il partito repubblicano. Costretto a ritirare la riforma che avrebbe dovuto sostituire l'Obamacare, il presidente deve ora fronteggiare le ripercussioni della sua prima grande sconfitta. Di per sé la bocciatura del Trumpcare non sarebbe un problema, ma Wall Street vede nel mancato appoggio dei repubblicani al Congresso un presagio sulla possibilità che Trump riesca effettivamente a mantenere le sue promesse sui mille miliardi di investimenti in infrastrutture e sulla riduzione di imposte per le imprese. Il tutto mentre il suo primo genero, Jared Kushner, si trova sotto inchiesta parlamentare per gli incontri avvenuti in piena campagna elettorale con l'ambasciatore russo Kislyak. Per riguadagnare il terreno perso, Trump rilancia il progetto del muro al confine con il Messico, chiedendo un miliardo di dollari per i primi 99 chilometri della barriera e minacciando il blocco dei fondi federali per le città santuario che continueranno a proteggere gli immigrati illegali. Il presidente avrebbe bisogno dei voti dei democratici per portare avanti il suo programma, ma il clima impedisce la riappacificazione. La ricca e popolosa California, infatti, rifiuta l'antiambientalismo di Trump e conferma l'impegno sugli obiettivi della conferenza di Parigi. 12 stati, tra cui New York, applicano le stesse norme californiane e ciò potrebbe vanificare l'inalzamento dei limiti alle emissioni voluto da Trump.